chi si mangia oggi oggi cucino su santo scelto un cuocere a casa così belli così buoni scelto allora questi qua sono quattro fettine di carne carne di vita bella 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 che ora vi spiego che taglio è chi sta a patterà la trinca questa la trinca è la trinca guardate amici ora la facciamo in padella questa è qui mia pozzo santo e qui dentro non ci sono i pasticcini ma come se fossero uguali pasticcini chi si sono qui francesca polpette polpette di patate chiaramente così belle ci sono e così buoni questi qua li facciamo in vigili di ciataria che ora vi farò vedere scelto e niente e oggi si mangia questo una bella insalata di pomotori pomotori e cipolla di tropea certo perché poi appominciate ah non si chiama pomotoro con la t ma si chiama con la d ma però tu ci metti la i perché se ci togli la o non lo so perché poi quando così ci sono tutti i professori comunque oggi si mangia questo amici campio di pro camma per le polpette per i pasticcini per i pasticcini a posto di farli in vigiltrice ad aria perché a un momento non capivi che non sta funzionando la vigiltrice ad aria perché c'è magari chiesto vediamo è tardi dobbiamo cucinare prendiamo una teglia e li mettiamo qui dentro una teglia li mettiamo al forno vengono uguali certo mettiamo qua è chiesto pasticcini a come mi muggiavo un supermercato come mi muggiavo un gommè come mi muggiavo i pasticcini c'è uguali pasticcini di patate mettiamo tutto qui dentro così pentiamo un po di olio una spruzzettina di olio e li mettiamo in forno scelto e si procede con la carne però in padella scelto prima volta partiti con l'aia di ripetitino di sedia non è ma ma si ma si necessa e più i ripetitino comunque amici vi auguro un buon pranzo a tutti quanti della casa del zio santo